Bello, ammazzato Io ho sbagliato il ragazzo, vediamo Becca qualcuno, becca qualcuno, becca, becca No No, non ho beccato nessuno Ciao a tutti ragazzi, sono Zombies e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi qua siamo su Battlefield 4, come potete ben vedere Su una mappa di... Del DLC Naval Strike Quindi io penso di schierarmi Ora come ora, aspetta, vi amo Ah, eccolo qua, questo mi piace Allora, non... Aspetta, vabbè, ecco Continuo a failare, ciò che mi trolla Ma è perché sono salito Allora, vedo che tutti i miei amici sono già partiti Quindi... Boh Eccolo Ok, siamo... Da dove portano? Noi siamo... Oddio, ho sparato Io vorrei sparare agli elicotteri, proviamoci, proviamoci, allora Allora, vediamo, qui c'è... Ah, eccolo là Bello! Io ho sparato il razzo, vediamo, becca qualcuno, becca qualcuno, becca, becca No? No, non ho beccato nessuno Ok, allora, allora, allora Ci buttiamo in mare, come si fa di solito Bella Adesso notiamo L'unica peccata che non si può andare sott'acqua Oh, sì Ok Ho failato di brutta Ok Che fail... Ok Bella Ho richiesto un veicolo, vediamo Mi arriva un veicolo Ah, ecco qua, il nostro amico è venuto in nostro soccorso, bravo Ora spariamo a tutto Quanto dei proietti mi sa che sono infiniti Se viene qualcuno è morto Questo è qualcuno sicuro Eh no, no, bello, io non voglio andare in acqua Questo, se non sbaglio, è modalità core perché non vedo la vita, le munizioni, l'arma Allora, buttiamo una granata E facciamo una cosa armi Poverina, è morta Vabbò Oh no No, no Con lo spas 12, come? Ah, va sparato ai barili là Almeno sono sulla terraferma Mi sa che il prossimo episodio sarà su una mappa di China Rising oppure Dragon's Thief Perché la vostra è che è bella, però è tutto ambientato per più C'è tanta acqua, quello dà un po' fastidio, eccolo qua, l'avete visto Eh, non ho mai avanzato io Io c'ho ancora so qua con lo spasso 12 ore Se noi entriamo ancora, cosa c'è? Beh, l'ha ammazzato Trollato di cattiveria Allora, tuo amico deve andare sempre avanti Noi spariamo alla base nemica Bello, ho beccato la loro nave Ma mi sa che non devo beccare la loro nave Devo fare una cosa sterica Trollato per due Ah, ecco però Che male che ne ho ammazzato E' bello che loro hanno anche un livello bello alto, quindi dice Eh, voglio ammazzare in uno No, a parte che stavolta ho anche failato io Il mio amico sta andando sulla nave E' bello che dobbiamo fare No, che male Aspettami amico Corri, corri, corri Bella Conquistiamo questa No, no, non deve andare Ok E abbiamo vinto Bello, qualcosa è cascato Qualcosa è cascato, non lo so Va bene ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi lascio Il link in descrizione Da dove poterlo comprare Al Minor prezzo E come al solito Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Condividete il video con gli amici E Iscrivetevi al canale Per rimanere sempre aggiornati Perché ora Ora è hot Ora è a Ora arriveranno molti più video ragazzi E quindi Iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace Condividete il video E ci becchiamo Alla prossima Ciao ciao